Facciamo confiarvi l'obiettivo La radiolina dove l'hai messa? Sono in tasca io Per sentire se il Mario Aspetta adesso sta No per sentire se funziona Ah ne hanno due del San Bernardo Come due? Due palloni Quello là e poi questo qua Dietro che stanno gonfiando Ma in quanti siamo? Uno, due, tre Lì sono dai Stai pure giù Dai vai vai te Fai quello che vuoi Vai tranquillo Guardate che non... Oh, oh che odio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti